donna con c'è donna con c'è che avete fatto insomma ti vuoi impicciare che fatti tuoi sia o no e calma calma fatti tuoi non fatti tuoi ma perché sono fatti i vostri? questi sono fatti del rione io non posso soffrire che quei due poveri giovani devono andare le musinando per un poco di amore io non ho capito che cosa aspettano se sono maggiorenni e si vogliono bene si fa presto no? certo che se io fossi nei panni della ragazza sì aspetterei la carrozza è proprio vero che il padre eterno mandi confetti a chi non tiene i denti per rosicarseli io sono giovane a me il sangue mi bolle e se stai tanto preoccupata pensa a trovarlo per te un marito ah io vero e perché mi avete preso io per regola di norma vostra gli uomini ce l'ho appresso così con la lingua da fuori e li faccio morire spandecati e dici ciò ciò non fai per me se ne viede una concetta trovate un marito cosa da pazzi che gente ciò non fai per me ciò non fai per me